Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritrovati su Happy Wheels E qui oggi ci ritroviamo con la nostra seconda parte In cui ragazzi andremo ad esplorare tanti livelli Tra cui, come dire, questi livelli li ordineremo per i più votati Quindi quelli che saranno più belli Evitando di fare livelli di merda che dopo, che so, entriamo e moriamo subito, queste cose Quindi ragazzi, questo è il primo, Slender Slender Parte 1 Giochiamolo Vediamo com'è Maria, ok Ah, c'ho la torcia, ok Prima pagina, ah, ho capito Sta pagina, ok Quarta pagina, ok, abbiamo vinto ragazzi Beh, il gioco, vai Forse per scappare dovevamo tirare indietro Eh, tu sei morto, vaffanculo No, vabbè No, 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 vabbè, io lo voglio rifare, lo voglio rifare perché sono curioso Fa' un culo Fa' un culo Ti mi no Va bene, lo voglio rifare Fa' un culo Ti mi no Ehm, lo rifaccio, no, non mi interessa un cazzo Fa' un culo Ma controlla che serve, tanto per sapere Ehm, lo rifaccio Ehm, lo rifaccio Ehm, lo rifaccio Boh, allora riesco, vai Andiamo su, né un po' un po'ος Callenzio Ah, ho capito È una sorta di culo Culo Ok, allora Meno di allora Oh yes Allora un minuto Poi Pidipi, sembra il Pidipi c'è in ogni gioco Andiamo Fanculo Ecco Parte 2, New Porn on Kennedy Oh yeah Che cazzo Medium Fanculo Allora Io dovrei passare Fanculo Questo cazzo di palla Mezzo coglione Allora Fanculo Fanculo Sì, hard Ok Oh sì Mi ho dimenticato di premere Citrull Per, come dire, per non vi rompere le gambe Ho un'altra cosa Saluto CiccioGamer89 No, allora Il cappello Me lo faccio meglio così Allora Allora Minuto Vittoria, vittoria 140 secondi Ci sono stato due minuti per fare questo video E per fare questa Questo livello Jungle Rope Luigi I like money Creato da I like money Giusto per l'appunto No 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 Bello Olè Oh no Ma perché No No Ok Posso rifarci Lo so che io posso Andiamo 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 Ma che cazzo Vaffanculo Neonetemble run Ah Io scelgo questo Sempre Sapete che io mi fido Del mio Ah Questo l'abbiamo fatto ragazzi L'abbiamo fatto Abbiamo fatto questo L'abbiamo fatto Ok Eh Neonetemble Donation Ma che cazzo Beh il che dicevo Ti mettevo Li ordinavo così Per evitare Allora Oh Ho capito Ho capito Ho capito Timmy No Non ce l'avevo fatto Scusa Oh yes Una Ok Due Ok Sapevo io Ma lo credo Non credo Non credo Non credo Non credo Ragazzi Attenzione a questi vetri Perché sono davvero Invegibili Anche se Anche se Non ce l'ho fatta Lo stesso Ma credo Che Ce la farò Ok Good Bene Ok Iniziere da Noting Che da noting Beh No allora vaffanculo io lo sa ho venuto male ho venuto senza braccio lo so che vede male ma dobbiamo rischiare ragazzi se vi comunico che siamo stiamo guidando senza male ok no 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 allora ragazzi lo so che ho provato tanti tempi ma ma devo vincere devo vincere ok lo sapevo io fanculo va abbiamo vinto solamente un livello se non mi sbaglio neon stars verso tutti i neon ma 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 icks abbiamo visto però abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto non mi interessa niente che abbiamo vinto abbiamo vinto lo stesso non mi interessa un cazzo non mi interessa niente cazzo bastardo vaffanguola no scusa 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 ho cliccato su su un altro link slender seconda pagina vediamo sicuro ci troviamo di nuovo con la benzina giusto la benzina la bicicletta non mi ricordo bene un minuto ragazzi metto in posa che ok 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 che ho sapato ah qui si prenderò ammazzato no fanguolo allora un minuto perché qua è bastardo spetta pagina notte passando non si trova adesso parla me devi dare coglione a ok muore fa un culo ragazzo questo lo voglio di giocare la prossima volta non mi interessa deliceo questo è l'ultimo ragazzo che prendiamo sempre il nostro vecchiotto perchè mi fido solamente di lui ciecamente anche perchè è più veloce ok ok oh si si vabbè non mi preoccupate che la testa è quella che conta quindi si ma che mi mi stiamo facendo in pratica un idromassaggio la mia salsiccia proprio sono già l'ultimo ragazzi ho 13 minuti e 8 che stiamo facendo questa cosa saremo che si carica entro questo minuto questo minuto perchè è davvero difficile la cosa carica ti allora robocop ho capito provare se vabbè ok allora eh come cazzo io solamente volando posso non nessuno no sono morto va bene ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video se vi è piaciuto mettete mi piace qui sotto e commentate quindi ragazzi vi ricordo solamente di iscrivervi al canale al mio canale mi stavo pixel 97 e grazie per aver visto questo video questo era tutto ragazzi iscrivetevi e commentate pollicello in su e un saluto a CiccioGamer89 quindi ciao ragazzi e questo è tutto ciao ciao ragazzi